I fan dei D'Amelis possono iniziare a sperare di nuovo in un possibile ritorno di fiamma tra Giulia Delellis e Andrea Damante. Recentemente, l'influencer è stata ospite del podcast The Roulette Talk di Elena Gradella e durante il gioco ha rivelato un dettaglio succoso. Non perdere nessuna novità, iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato. Fresca di rottura con Giano Del Bufalo, Giulia ha risposto alla domanda su quale ex sceglierebbe per un ritorno di coppia. Mi state costringendo a dirlo. Va bene, facciamo felici un bel po' di persone e diciamo D'Amelis are back. Durante il podcast, Giulia ha riflettuto attentamente prima di rispondere alla domanda. Se dovessi scegliere per forza di tornare con un ex, chi sarebbe e perché? Con il cuore attualmente libero dopo la separazione da Giano Del Bufalo, ha preso il tempo necessario per scegliere le parole giuste. Per forza? Perché me lo state chiedendo e mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede, vi rispondo. L'influencer ha confessato di essere indecisa tra due nomi, ma ha optato per quello che avrebbe reso felici molti fan. Vabbè, facciamo felici un bel po' di persone e diciamo D'Amelis are back. «Tanto io e Andrea ci conosciamo da una vita. Sono anni che ci proviamo e riproviamo. So già come sarebbe stare con lui. Ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica, gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando». Anche se ha parlato con tono scherzoso, Giulia ha comunque menzionato il nome di Damante, facendo scatenare le speranze dei fan. Sarà questo il primo passo verso un nuovo riavvicinamento tra i due? Se il video ti è piaciuto, lascia un like e un commento per farci sapere cosa ne pensi. Giulia non ha specificato perché Andrea non la sopporterebbe in questo momento, ma forse questa sua dichiarazione d'amore potrebbe aiutare a distendere i rapporti. Attualmente il DJ è ufficialmente single dopo la fine della relazione con Eliza Visari, quindi non ci sarebbero ostacoli a un loro possibile ritorno insieme. Riusciranno i Damellis a infiammare il gossip estivo del 2024? Giulia ha lanciato la prima mossa. Ora tocca all'ex fidanzato fare la sua parte.